La vettura Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte che hanno estratto la conducente dalle lamiere dell'auto e l'hanno affidata ai sanitari della Croce Rossa di Castellamonte che, dopo le prime cure, l'hanno trasportata all'ospedale di Ivrea. Non è in pericolo di vita. La dinamica al vaglio dei carabinieri di Castellamonte. La vettura La vettura